Stato del vigneto ottimo, qualità delle uve molto buona, clima fin qui soddisfacente. Anche quest'anno in Calabria ci sono tutti i presupposti per un'ottima vendemmia in termini di qualità rispetto alla campagna precedente nella quale si era registrata una produzione complessiva di 110.000 ettolitri di vini e mosti. Quest'anno la diminuzione si aggirerà tra le 10 e il 15%. Questo quanto afferma Franco Aceto, presidente di Col di Retti Calabria, in base alle stime e previsioni raccolte. Come è noto, dice, anche nella nostra regione è stata autorizzata la vendemmia verde, una misura straordinaria di sostegno al reddito in favore dei produttori che hanno proceduto entro il 25 luglio all'eliminazione dei grappoli di uva dalla pianta prima che questi giungessero a maturazione. Una scelta allargata in via eccezionale anche per le uve DOC e ITG in previsione delle difficoltà di incameramento delle uve nella prossima vendemmia 2020 e questo a causa delle giacenze di vino rimaste infendute nelle cantine per il blocco dei canali di destinazioni quali hotel, ristoranti, catering oltre ai mercati internazionali a seguito della pandemia. Il meteo finora sta dando una mano perché l'uva ha bisogno di giornate di sole, giuste temperature e buone escursione termiche tra il giorno e la notte. Va comunque sottolineato, dice ancora Ceto, che finora il vigneto Calabria ha goduto complessivamente di una stagione climatica ideale che tradotto significa uve quasi certo ovunque sane e i viticoltori sanno bene che non è questo il momento di abbassare la guardia. Se la vendemmia 2020 fa ben sperare in qualità è altrettanto vero che poi il vino venduto e va venduto. Purtroppo la crisi per il Covid-19 non ha certo aiutato quest'anno il comparto e l'intera filiera. Dovrà essere compito di tutti, Regione Calabria inclusa, dedicarsi con vigore ancora maggiore alla promozione nei mercati internazionali dei nostri vini di qualità. Per centrare questo obiettivo sarà però necessario operare in squadra coinvolgendo quindi cantine, consorsi e istituzioni. Tra l'altro quest'anno potrà mancare un positivo circuito Wine Destination che in molti anni ha contribuito anche al movimento dell'enoturismo che ha stimolato il binomio vino-territorio che consente alle imprese vitti vinicole di accogliere in vigna e in cantina gli enoturisti con la possibilità di far degustare e vendere il proprio vino in abbenamento ad alimenti tipici locali freddi.